Tu sei nato coltato e fai a tutti Vice sindaco e Assessore all'istruzione dell'intercomunica Miano, il riconoscero Il sindaco di Campanella E Agos, il bambino di Presidio Io non sono nero, io non sono bianco Io non sono vivo, io non sono gatto Io non provengo da nessuna cura Io non sono vivo La comunicazione dice questo, impegniamo di non tirare dal momento dagli spalti alcun tipo di 2 giugno o quant'altro Per favore pubbliciamo questo E se la comunicazione dice questo Che mi viene dalla direzione generale del capo di non accedere la distanza Grazie 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 a tutti.